benvenuti in questo nuovo tutorial io sono danilo d'antonio in questo video dimostra la compilazione dei documenti IEM partiamo direttamente dal sito andiamo nella tendina documenti e automaticamente si apre il menu a tendina dei documenti andiamo direttamente verso il documento che ci serve entriamo dentro la finestra la volontà e la parola di io sono si visualizzano varie icone quelle che ci interessano sono la volontà e la parola di io sono in italiano e la volontà e la parola di io sono in inglese che possono essere scaricati tramite la freccia in alto a sinistra dopo che li abbiamo scaricati andiamo nella cartella download e quindi apriamo la volontà e la parola di io sono il documento si presenta in questa maniera se scorriamo verso il basso abbiamo i primi dati da compilare a sinistra io sono più la lineetta va compilato dopo che il documento è stato stampato a mano mentre se vediamo a destra dove c'è un evidenziatore giallo più una scritta rossa andiamo a modificare l'IM prendiamo ad esempio un nome fittizio Mario Rossi nato il 15 gennaio 2023 la compilazione sarà gli iniziali del nome del cognome in minuscolo il trattino poi prima il mese poi il giorno e poi l'anno questa modifica va in questa modifica va tolto l'evidenziatore giallo e la scritta da rosso diventerà nera questo tipo di modifica viene fatta anche sul pie pagina in questa maniera ok il pie pagina è praticamente la file di ogni pagina e di ogni foglio che compone il documento quando si modifica il primo pie pagina di ogni documento automaticamente si modificano tutti gli altri ok andiamo verso il basso anche qui abbiamo la compilazione alla stessa maniera identica maniera dell'IM fatto sopra e qui andiamo a compilare il nome e cognome per esteso in alternato cioè col nome con la prima lettera del nome in maiuscolo e il resto in minuscolo è la prima lettera del cognome in maiuscolo e il resto in minuscolo e il giorno per esteso il nome del mese va scritto in minuscolo in italiano andiamo avanti con la compilazione dove c'è scritto anche percepito come è il giorno della compilazione del documento in questo caso 27 gennaio 2023 andiamo a terminare la compilazione sempre nella stessa maniera ok per meglio facilitare la fine della compilazione possiamo evidenziare tutto tutta la parte del documento che ci interessa e in alto abbiamo una tendina dove si modificano i colori sia l'evidenziatore che ecco qua la scritta e quindi portiamo tutto al colore del documento questo trucco per togliere l'evidenziatore e il colore della scritta non si applica per l'intestazione della pagina quindi va fatta singolarmente in questa maniera andiamo giù andiamo giù nel documento qui ci sono le solite compilazioni del nome del cognome per esteso in alternato come detto precedentemente evidenziamo e uniformiamo il colore andiamo giù alla base e qui dobbiamo compilare anche qui il cellulare il numero di cellulare l'email eventualmente e la pack essenziale nonché anche il nome e il cognome in alternato come abbiamo sopra citato la compilazione va fatta sempre come in precedenza togliamo l'evidenziatore giallo e anche il colore rosso delle modifiche così uniformiamo i colori col documento originale ok adesso siamo pronti per stampare il documento abbiamo una particolarità tra il documento scritto in italiano e quello in inglese che è la scrittura della data il formato della data che adesso andiamo a vedere eccola qui evidenziata vedete che la data non è scritta in italiano ma c'è prima il mese il giorno e l'anno e tutti i documenti in inglese vengono scritti in questa maniera anche il momento della data di compilazione come indicato in questo esempio mostro direttamente le differenze entrando nei due documenti uno a sinistra in italiano e l'altro a destra in inglese per evidenziare la differenza della data infatti a sinistra abbiamo scritto 30 luglio 1972 mentre a destra è luglio 30 1972 come esempio abbiamo realizzato un documento già compilato anche a mano dove facciamo vedere come viene autografato e timbrato il documento che verrà poi scansionato e spedito tramite PEC tutti i fogli del documento sono autografati e timbrati in questa maniera facciamo vedere la prima pagina a fianco a io sono abbiamo il primo autografo fatto in colore viola e timbrato con il colore rosso viene effettuato anche a pie pagina e di fianco a eterna essenza in corpo scriviamo il nostro nome e cognome in alternato in tutti i fogli del documento che si presentano come vedete 2D7, 3D7, 4D7 e anche a fine pagina diamo il nostro autografo in alternato con il timbro se a fine documento il foglio ha una spaziatura di questo tipo va barrato in questa maniera per evitare che qualcuno gli scriva sopra arrivederci al prossimo tutorial